Con grande orgoglio che do il benvenuto a tutti voi al nono appuntamento di Senato e Cultura, un evento speciale che oggi è dedicato al volontariato. E grazie a tantissimi, sono sette milioni di donne e di uomini, che ogni giorno con grande fatica e con grande passione, con grande professionalità, dedicano il loro tempo a soccorrere gli altri, andare in aiuto degli altri. Ed è grazie a loro se noi abbiamo oggi questa Italia che amiamo. È la storia della nostra nazione, che è tessuta da molte attività, da tantissime attività di sociali e di solidarietà. Una solidarietà che ha un duplice effetto, perché da un lato i volontari che vanno in soccorso agli altri, quindi li aiutano nelle necessità quotidiane, dall'altro però da questa attività ricevono una grande forza interiore. E io ho raccolto moltissime testimonianze di volontari che mi dicono che dall'aiuto nei confronti degli altri ricevono molto di più di quello che danno. Ed è per questo che ho pensato, muovendo da questa considerazione, di istituire un premio in collaborazione col supporto della RAI e RAI Cultura, che ringrazio sempre. E il premio è la dimostrazione che la solidarietà non è soltanto un valore, è un valore aggiunto. La solidarietà è uno stile di vita, è il modo di rapportarsi con gli altri, di inserirsi nella società, di affermarsi come cittadini, ma come volontari, come eccellenze, come riferimento nei confronti degli altri. E' per questo che io voglio ringraziare tutte le associazioni, tutti voi e tutte le associazioni, che hanno dato un contributo notevole per il terzo settore, hanno dato un contributo alle quattro settori che noi abbiamo scelto per il premio, che sono la cultura, l'ambiente, il sociale e la salute.